Musica Bella a tutti ragazzi Qui è Killer Perché ho cambiato nome Mi chiamo Killer adesso Mi sono stufato di ZX Killer E oggi Sono in questo video Su GTA V Non per la sfida Perché se no il titolo era diverso Ma per Mostrarvi Un bug Che ho trovato Ancora un sacco di tempo fa Su Su GTA V E' un bug Che Praticamente Trapassa la macchina Trapassa il numero Praticamente Voi venite qua In questo Andiamo al punto della mappa Dove c'è Qua Io lo segno Guardate qua Ecco E dovete Fare Semplicemente Così E automaticamente Salete Sul punto Appunto dentro L'edificio Questo bug All'inizio Mi ha sorpreso molto Perché Cioè io stavo Praticamente Non so come avevo fatto Ma era caduto Vedete quella Quella Ponte lì Ecco io ero caduto giù Qua No Così Praticamente Avevo detto Partiamo Volevo andare di lì La macchina Avendo poca trazione Mi è scivolata E mi è finita qua Io ho detto Ma che Capi Ecco E sono andato Appunto lì Niente Il video era questo Era solo un Bug Magari farò Una serie In cui Mostrerò tanti Bug di GTA V Penso che Questo bug Non l'abbia ancora Scoperto nessuno A parte me Adesso che Magari farà il giro Di Youtube Magari porterà Anche tanti iscritti E magari Lo invierò Anche Dei Face Game Che Magari faranno La top Di bug Quindi Spero che L'introduzione I Belli I Can Fly Vi sia piaciuta Se Il video Vi è piaciuto Mettete un like E Iscrivetevi Bella Ciao Ciao Ciao